Se siete adoratori del panettone ma rinunciate a prepararlo in casa perché è troppo complesso e laborioso allora potrei darvi una soluzione che potrebbe fare al caso vostro. Sì perché oggi prepareremo insieme il Nadaline, ovvero il classico panettone veneto la cui preparazione risulta molto ma molto più semplice rispetto a quella del panettone classico. Cosa stiamo aspettando? Prepariamolo insieme! Per preparare lo squisito Nadaline Veneto sono necessari 300 g di farina Manitoba 140 g di semola rimacinata di grano duro 100 ml di latte 50 g di burro 100 g di zucchero semolato 12 g di lievito di birra fresco 1 pizzico di sale e 2 uova Poi per la copertura utilizzeremo 50 g di zucchero in granella 20 g di pinoli e 30 g di mandorle e un uovo dove utilizzeremo solo l'albume Iniziamo con la preparazione Abbiamo setacciato la farina Manitoba e l'abbiamo versata all'interno di una ciotola Mettiamo anche la semola e mescoliamo Molto bene! Adesso abbiamo intiepidito appena appena il latte nel microonde Sbricioliamo il lievito e ci aggiungiamo direttamente un paio di cucchiaini di zucchero che ci servirà per facilitare la lievitazione quindi per attivare i lieviti e mescoliamo per bene Abbiamo dunque versato il lievito sciolto all'interno delle farine E adesso ci siamo anche un po' portati avanti Abbiamo sgusciato le uova e fuso dolcemente il burro Uniamo le uova al burro e con una forchetta le sbattiamo leggermente fino ad amalgamare insomma i due ingredienti Adesso possiamo unirle alla farina e al lievito Se avete tempo lasciate pure anche lievitare il lievito appunto all'interno della farina per una decina di minuti fino a quando diventerà più gonfio Io velocizzo comunque l'operazione Il risultato sarà comunque ottimale Mescoliamo con il mestolo di legno Aggiungiamo anche lo zucchero Semolato Infine il sale Mescoliamo per bene prima con il cucchiaio poi a mano fino ad ottenere un impasto compatto Se necessario aggiungiamo ancora un po' di farina Come vi dicevo ho trasferito l'impasto sulla spianatoia e le sto lavorando la pallina da circa 5 minuti Vedete il composto è molto più compatto rispetto a quello che abbiamo visto per il panettone classico Adesso cosa facciamo? Possiamo riporre pure la palla di impasto all'interno della stessa ciotola in cui abbiamo lavorato copriamo con un foglio di pellicola trasparente Dopo 3 orette abbondanti il nostro impasto è lievitato piano piano e questo è il risultato Adesso voglio dirvi una cosa prima di procedere La tradizione veneta impone di preparare il nadalì in uno stampo a forma di stella a 5 oppure a 8 punte La versione più moderna invece prevede l'utilizzo di una semplice teglia rotonda dal diametro di 24 cm Io ho preso uno stampo in carta quindi non serve imburrarlo ed infarinarlo però chiaramente se prendete la teglia classica mi raccomando metteteci pure un po' di burro ed un po' di farina Procediamo con l'impasto Spostiamo quindi lo stampo Vedete com'è soffice Lo sgonfiamo un po' Lavoriamo velocemente l'impasto che vedete deve essere molto liscio Se necessario aggiungiamo un po' di farina in questo caso non serve Adesso abbiamo detto che dobbiamo far lievitare il tutto per una seconda volta all'interno dello stampo a stella solo che per una lievitazione omogenea Come possiamo procedere? Dividiamo l'impasto in due parti Una pallina la mettiamo al centro e con la parte rimanente dell'impasto cerchiamo di fare otto palline e le mettiamo in ogni angolo della nostra stella Adesso schiacciamo appena appena così in modo che la stella non si alzi solo da questa parte ma si distribuisca per bene e andiamo ancora a lasciare riposare il tutto per almeno due ore o fino a quando l'impasto fuoriesce dallo stampo Dopo un paio di orette di lievitazione questo è il risultato bellissimo direi Adesso però procediamo con la copertura Come si fa? Io ho sgusciato l'uovo ho diviso il tuorlo dall'albume e sto sbattendo un po' l'albume con la forchetta Adesso con un pennellino intingiamo il pennellino nell'albume leggermente sbattuto e andiamo a pennellare la superficie l'albume servirà da collante Ho spennellato delicatamente tutta la superficie e adesso sto versando un po' di zucchero in granella così Adesso aggiungiamo anche i pinoli e le mandorle Alcune ricette del Nadalim prevedono di frullare mandorle, pinoli e zucchero Io invece preferisco appunto le mandorle di pinoli intere E adesso finalmente possiamo infornare il nostro Nadalim alla temperatura di 180 gradi e lo cucineremo per circa 30 minuti dopodiché lo faremo completamente raffreddare e poi finalmente potremo tagliarlo Con orgoglio vi presento la mia creazione, il Nadalim che in qualche modo può essere anche considerato una sorta di progenitore del pandoro e poi non abbiamo fatto molta fatica trovate Buone feste a tutti!